Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video dal vostro Zarcheos in the World Oggi sono qui per mostrarvi la missione di Aquaman che è molto 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 semplice Basta semplicemente prendere tipi di pesci in diversi diversi in una partita singola È molto 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 semplice ragazzuoli adesso andiamo in game e ve lo faccio vedere Bella! Come potete vedere ragazzuoli possiamo buttarci in qualunque punto noi vogliamo Molto semplice adesso andiamo a trovare un punto di pesca e vi faccio vedere come si finisce la missione Molto 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 facilissimo ragazzuoli Ok ci siamo ragazzuoli basta semplicemente pescare un flopper sia che quello che dà vita o magari quello che dà anche scudo Quindi in questo ecco non lo troppo mai quando lo devo droppare Vabbè ok ecco ecco qui abbiamo pescato quello viola Adesso andiamo un po' più avanti che ci dovrebbe essere un'altra Un'altra pozza o comunque ragazzi possiamo fare anche così Pescare normalmente il pesciolino Quello anche bianco ok Vedete? E abbiamo automaticamente completato la missione Beh che dire ragazzuoli spero che questo video guida e vi sia stato d'aiuto Mi raccomando per quello che ho così fatemi sapere nei commenti E niente un abbraccio al vostro Dark House Mi raccomando schiedete al canale attiva della campanella E supportatemi con il codice creatore Dark92 Bella ragazzuoli Vi voglio bene a tutti quanti Mi raccomando schiedete al canale